devo già accendere da qua questo lo tagliamo marco fa da da cosa però c'ha ragione con questa qua la vita americana tiene non si rompe così se si rompe quando la ruota in cima ci cade giù addosso ti porterò giù anche quella grazie si fa veramente anche qua guarda che tutti i clienti da sopra no no sono qua no non dobbiamo salire da qua sono qua avanti spampi va che ho trovato di nuovo reggisena prendi qualcosa lì di plastica va che lo portiamo via anche noi eh si i clienti fanno portare via roba però ne quella batteria qua della moto porti via te che ti può servire e che va là su quella non viene su se viene su se viene su lo buttiamo dentro qua ma non viene tanto ormai sicuramente non è dentro più niente e il press l'altra volta che è passato di qua mi dice che è andato in crisi eh anch'io eh devo essere sincero sempre stato di qua in moto eh sì questo è quello che faceva normalmente a venire in su eh solo che guarda come l'ha combinato c'è dentro certi passaggi là eh come qua è diventato più facile perché vai giù diritto a parte che è vicido dappertutto ma va qua che scavo che ha fatto ma non c'era tutta la roba qua eh ma che roba cazzo dobbiamo mettere su lì avanti si può e subito qua sopra eh come hanno fatto guardate tre quattro cinque sei sempre cazzo ci sono aumentati no vedete 8 o 10 non mi ricordo quando non li ho contatti lo buttate tutto di qua e basta bravo Marco da lì secondo me questo è la mutate su in cima e l'acqua la portate giù poi fino a qua eh questo dovrà tagliar via Vito perché ci rompi i maroni perché l'altra volta io ti ho sbroccato via lì però il problema è guarda è franato giù tutta la terra tutta è franata giù si è di lì Marco non non è che non è che sa dove anche perché lì c'è subito sulla la cosa queste tagliamole Vito tagliamolo via quella aspetta che ti do su guarda che c'è un piede d'acqua te le dai su questo intanto aspetta puliamo via quel pezzetto qua che almeno è comodo da buttarle lì aspetta un secondo aspetta